Il tema dei beni comuni annuncia importanti prospettive nei modelli di amministrazione e di politica. Si tratta infatti di affermare che esistono risorse essenziali come l'acqua che non possono essere assoggettate alle regole del mercato, ma vanno considerate libere e disponibili per tutti. Un'idea nuova di comunità locale parte da una diversa qualità delle relazioni in una società il cui benessere non può misurarsi soltanto attraverso gli indicatori economici. Sabato 28 se ne discuterà a Napoli in un forum aperto che vedrà la partecipazione fra gli altri di Vendola, i sindaci De Magistris, Pisapia, Emiliano, Zedda, Merola, Orsoni, il presidente della provincia di Roma Zingaretti. Molto importante a nostro avviso questa iniziativa per discutere di come si riesce a costruire una democrazia partecipativa dal basso che ha come filosofia di fondo quella dei beni comuni, l'acqua, il sapere, la conoscenza, il mare, il territorio. E' l'occasione anche per discutere, confrontarci e trovare pratiche che possano portare alla costruzione di alternative politiche, sociali, culturali ed economiche a modelli che ormai sono falliti, quelli del liberismo, quella della concentrazione dei poteri che hanno prodotto disuguaglianze sociali inaccettabili. L'appuntamento è alle 9 al Teatro Politeama, mentre a mezzogiorno sono previsti al Maschio Angioino quattro tavoli di confronto sui temi dell'economia, del welfare, dell'ambiente, dei servizi pubblici, della partecipazione. Le iscrizioni al forum e ai tavoli di lavoro